Scandalo a Belve. Mara Maionchi attacca Tiziano Ferro, ma il cantante risponde senza pietà. Prima di entrare nel vivo di questa accattivante vicenda, ti chiedo di iscriverti al canale e di condividere il video. Grazie mille. La puntata di Belve di martedì 30 aprile ha visto Mara Maionchi sfogarsi senza filtri, attaccando apertamente Tiziano Ferro e rivelando dettagli intimi della sua vita privata. Mara Maionchi ha accusato Ferro di ingratitudine e ha confessato tradimenti e problemi con il gioco d'azzardo. Mara Maionchi ha svelato in diretta che Tiziano Ferro non avrebbe compreso l'importanza di averla incontrata, definendolo irriconoscente. Ha raccontato di come lei e suo marito abbiano aiutato Ferro a raggiungere il successo, ma senza ricevere la dovuta riconoscenza. Queste dichiarazioni hanno scosso il mondo dello spettacolo, sollevando interrogativi sulla vera natura delle relazioni nel settore. Inoltre, durante la trasmissione, Mara Maionchi ha aperto il sipario sulla sua vita privata, rivelando di essere stata vittima di tradimenti da parte del marito, Alberto Salerno. Ha ammesso candidamente che in parte anche lei è stata responsabile dei problemi coniugali, accennando a una sessualità che definisce modesta. Queste confessioni hanno aggiunto un'ulteriore dimensione di dramma e complessità alla vicenda, gettando luce sui dilemmi personali affrontati anche dalle figure pubbliche. Non è finita qui, ma Maionchi ha anche parlato apertamente del suo passato con il gioco d'azzardo, ammettendo di essere stata coinvolta in episodi eccessivi di scommesse. Ha rivelato di aver vinto grandi somme, ma di essere riuscita a contenersi prima che il problema diventasse ingestibile. Questa rivelazione ha messo in luce una vulnerabilità nascosta dietro la facciata pubblica della celebre produttrice discografica. La risposta di Tiziano Ferro non si è fatta attendere. Il cantante ha scelto di replicare alle accuse attraverso i social media, dichiarandosi sempre grato a Maionchi e sottolineando che avrebbe apprezzato se le sue opinioni fossero state espresse direttamente a lui in passato. Ferro si è detto amareggiato per l'intera situazione, definendola triste. La polemica tra Mara Maionchi e Tiziano Ferro ha suscitato un acceso dibattito sui social media, con molti fan che si sono schierati a favore dell'uno o dell'altro. Resta da vedere come si evolverà questa controversia e se le scuse saranno sufficienti a placare ghigli animi. La vicenda ha riportato l'attenzione sull'importanza delle relazioni nel mondo dello spettacolo e sull'etica professionale nell'industria musicale.